Grazie a tutti Buonasera a tutti Stasera siamo in orario eccezionale Alle 7 di sera ma perché c'è la finale di Masterchef No scherzavo Beh parte di scherzi a chi interessa O uno la guarda in diretta o rimane fregato Perché con i social di oggi è impossibile non farsi rivelare o spoilerare Quanto meno fino al giorno dopo i vincitori Quindi se uno ce la vuole guardare Deve essere per forza O se la guarda stasera o più tardi Oppure non ce la può fare Se è un amante delle sorprese Perché chiaramente domani Poi tempo fa seguivo X Factor Alla mattina quando ascoltavo il TG di Sky Dava come notizie gli eliminati della sera prima Che dico Cavolo Non ho fatto neanche in tempo a guardare la replica Vabbè sto lasciando questi discorsi che nulla hanno che vedere Ciao Flavio Vedo Marco ciao È rimasto il dito nella tastiera Oppure proprio il Grazie Progetti, consulenze, corsi Che tra l'altro attraversano tutto lo scibile da Delphi a Java A Visual Studio e .NET e JavaScript Sto iniziando a mescolare tutte queste cose E quindi a volte metto punti virgola dove non vanno le virgolette singole, le doppie E quindi per scaricare la tensione della giornata Esatto Quindi ho letto su Telegram un po' delle avventure che stai affrontando sul gruppo segreto A proposito ricordo sempre che siccome per chi fa Lo streamer è d'obbligo avere il canale Discord Io in realtà non ce l'ho però Esiste il canale Discord di Delphi Club Italia Che Diciamolo Chiamiamolo sponsor ufficiale Ma Come dire È uno sponsor onorario È un Ti avevamo perso Ah Quindi ci sono problemi Sulla connessione Tra l'altro ho scoperto Qualche sera fa Mi è andata giù la connessione E non si è più Come dire Riavviata Oddio Cos'hai combinato? Cos'è successo? Sono scomparsi Mi è scomparso tutta roba dalla chat Non so cos'hai postato Però c'è stato un momento di Una moderazione che è stata Aspetta che ripristino Cavolo ti ha eliminato Ti ha eliminato Cinque messaggi Il moderatore automatico Ma come cavolo è possibile A parte il fatto che Qualche problema tecnico Ma qui mi dà Mi dà ottimo Quindi Boh Speriamo che sia tutto a posto A volte All'avvio può succedere A volte Me lo fa abbastanza spesso Quindi Adesso tra l'altro Li riattivo la musichetta Un po' più bassa Però Così magari Teniamo occupata la banda Non ho capito Che fine hanno fatto Avevo messo le faccine Ho capito Però ha tolto Ha tolto Anche gli altri messaggi Non ho capito perché E non li riesco più a recuperare Non li vedo più Sono proprio Sono scomparsi Letteralmente Quindi Vabbè Adesso Anche qui Il moderatore è automatico E quindi non è una persona Bisogna lamentarsi Sono gli effetti Dell'intelligenza artificiale Stavo dicendo Che qualche sera fa Mi è capitato Che andasse giù La connessione Il wifi E poi Io siccome uso Due bande distinte Una per la Per i 2 GHz e 4 L'altra per i 5 GHz Ho visto sul modem Che la banda da 5 Era Non spannare simboli Sì Vabbè E quindi è un po' È un po' rigido L'automod E quindi è un po' E La banda da 5 GHz Praticamente era disabilitata Per rilevazione Di un radar E quindi Non spannare C'è scritto Quindi si vede Che hanno tradotto Un po' male E Se c'è scritto così O se è scritto così Colpa dell'autocorrezione E ho scoperto Che Quando c'è il modem I modem Diciamo legali Per legge Devono sondare Delle frequenze Che stanno sui 5 GHz E quando rilevano La comunicazione Da parte di un Di qualcosa di prioritario Tipo un Una radio Così militare O qualcosa del genere Hanno l'obbligo Di mettersi fuori linea Quindi di lasciare libera La banda Dei 5 GHz E di Ricontrollare Dopo 10 minuti Se la trasmissione C'è ancora Rimangono spenti Se invece La trasmissione È cessata Possono riprendere L'uso dei 5 GHz Chiaramente Chi ce le ha unificate E ha Come dire Lo switch automatico Di questa cosa Magari non se ne accorge Io che le tengo divise Gli ho dato un nome Diverso Me ne accorgo Perché Quando va giù Per 10 minuti Io quella 5 GHz Non la posso usare Quindi devo usare Per forza Quella Quella 2 GHz E 4 È incredibile Però Questa cosa Io non la sapevo Assolutamente Quindi Ho imparato Qualcosa di nuovo Avendo il problema Non sono un esperto Di Di comunicazioni Come dire Civili E cose di questo tipo Non vorrei Che sia andata giù Quella Ma spero proprio di no Altrimenti Ce ne accorgeremo Diciamo Allora Argomento Della serata No In realtà Questo è un Appuntamento Con la serie Io la chiamo Discovery Perché andiamo Alla scoperta Cioè È un modo per dire Normalmente Non so le cose Però In questo caso È come se io Mi giustificassi a priori Del fatto Di non saperle Quindi Andando a sperimentare Chiaramente Gli errori Sono dietro L'angolo Però È una rubrica Che mi piace Perché ogni tanto È bello Andare a dare Un'occhiata A qualche Libreria A qualcosa Ciao Il Doleo Scusate Ritardo Scusate Ritardo No Dai Qui non è Un Come dire Un appuntamento Della serie Stai andando al medico E quindi Nessun problema Anzi Mi fa molto piacere Che ci si colleghi Però Stavo dicendo Che Volevo dare un'occhiata Appunto A questa libreria Che tra l'altro Ha vinto Lo Spirit of Delphi Award Non ho capito Se è dell'anno scorso Di quest'anno Penso dell'anno scorso Per cui Che è un premio Che Vabbè Embarcaderi Che danno A coloro Che si distinguono Nella programmazione O nel Nel supporto Di Delphi Ed è praticamente Il porting Su Delphi O comunque Il wrap Potremmo dire Della libreria Grafica Schia Che è una libreria Di Google Che ha la base Poi di molti prodotti Tipo Chrome Non solo Google Ma anche Di altri Fornitori Ad esempio Sono a base Di Chrome Di Flutter Che sono Ovviamente Prodotti Di Google Da cui Flutter È il diretto Concorrente Di Delphi Anche se Flutter Non lo sa Perché Delphi Non è conosciuto Come Flutter Ma Come dire Abbiamo Molte delle cose Di cui Gli sviluppatori Flutter Si vantano E prima o poi Organizzeremo Una live A proposito Ce la faremo Prima o poi A fare Una Non una live Comparativa Ma una live Demostrativa Per fare Tutta la carrellata Anche se Comparativa Non sarebbe male Farla Non sarebbe male Pensarci E che stavo Dicendo Sì Quindi questa Libreria Grafica È la base Di questi due Prodotti Ma anche Di Firefox Ho letto Di Xamarin Quindi di altre Anche altre Librerie Che servono Per fare Applicazioni Per desktop Per mobile Perché è una Libreria Cross platform Quindi ha le sue Primitive Le sue funzioni Di disegno E quindi Quando ho letto Dell'uscita Di questa Schia For Delphi Sono rimasto Abbastanza Incuriosito Perché Our 2022 Riferito A 2021 Ah ok Quindi praticamente Avevo detto Erano entrambe Le cose Dovinato Sì Più o meno Mi ricordavo Questa incertezza E quindi Ci sta Ci sta Perché poi Tra l'altro Mi pare Che Netto del supporto Che hanno avuto Dal Developer Evangelist Jim McKitt Che Lui piace Sperimentare Con cose Un po' Particolari Su Android Adesso Ho visto Che ha fatto Un webinar Con Scott Hanselman Quindi Una persona Abbastanza Nota Soprattutto Nel mondo Microsoft Con Come dire Su Il supporto Di Windows Android Quindi Come c'è WSL Quindi Il subsystem Per Linux Ci sarà E' stato Promesso Quindi Le promesse Dovrebbero Mantenerle Su Windows Arriverà Anche Il WSA Cioè Windows Support Per Android Quindi La possibilità Di far girare Delle applicazioni Per Android Sarò curioso Di testarlo Quanto Prima Appena Arriverà Possibilmente In versione Stabile Perché Con il mio Portatile Ci lavoro Pure Quindi Non voglio Installare Cose Che poi Mi Mandino Mi Facciano Dei Danni Clamorosi Quindi Quando ho sentito Questa Liberia Pare Che ci abbiano Lavorato Parecchio Quindi Che ci abbiano Perso Qualche notte Per usare Un eufemismo Ero curioso Di provarla Sia perché Da quello Che ho capito Poi dopo Adesso Andiamo Un attimo A Come dire A sniffare In giro Sito ufficiale Github E tutte le varie Informazioni Io l'ho installata E non l'ho ancora Proprio Guardata Minimamente Quindi Devo proprio Ci muovo I primi passi Ed è proprio Un'osservazione Giusto Per capire Di cosa si tratta Però Quanto pare Ci sono Sia Vabbè Il wrap Della libreria In sé Come funzioni Primitive Però Da quello Che ho capito Ci sono anche Componenti Per Firemonkey E per VCL Tra l'altro Su riguardo Firemonkey Da quello Che ho letto Di qua E di là Da quello Che ho capito E' possibile Proprio Sostituire La Come dire Motore grafico Di Firemonkey Perché Firemonkey Una libreria A strata Che si appoggia A diverse A diversi motori Dal punto di vista A seconda Della piattaforma Di riferimento Perché è fatta apposta Per fare Per fare Ultimamente VCL E quanto pare Dovrebbe essere Possibile Usare Questa libreria Come Per il rendering Grafico Al posto Di fare Mochi Ho sentito Dire Che è un po' Più veloce Che Qualitativamente Fa Desegnava Le cose Un po' Meglio Quindi Come Anti-Alias Però Ha anche Dei difettucci Perché qualcuno Ha trovato In giro Non so Delle cose Disegnate male Quindi Siccome Noi In passato Qualche applicazione Cina Nelle live Precedenti L'abbiamo Fatta Magari Poi Vedremo Come si Comporta E proviamo A sperimentare Anche Questa Cosa Perché In ogni Caso E' curioso Il fatto Di poter Abilitare Un motore Come Dire Alternativo Grafico Rispetto A Firemonkey Comunque Cross Platform E quindi Poi Ho visto Che ha Il supporto Per certi Formati Specifici D'immagine Ho visto Un formato Lotti Che Scritto In json Con delle animazioni Gli adesivi Di telegram Ho visto Della roba Che Chiaramente Se uno deve Fare un'applicazione Deve un attimo Fare un po' Di effetti speciali E un po' Di Come si può dire Cinema Perché Poi E' la parola Che si usa Il cinema Vuole Chiaramente Fa effetto E quindi Anche Soprattutto In ambito Professionale Sui clienti Fai vedere Una cosa bellina E già Si esaltano Poi magari Tu Ci hai messo Cinque minuti Hai lavorato Quattro giorni Per una procedura In mane Su cui hai sputato Il sangue Ma quella Ovviamente Rimane Hai fatto il bordo azzurro Qualcosa del genere E da lì L'estasi Ma ci sta Perché alla fine Spesso è la cosa Che guardiamo Anche noi La prima cosa Che facciamo Installando un idem È andare a cambiare Il tema dei colori Quindi anche Gli sviluppatori Sono un po' Soprattutto 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 e potrebbe anche elevarsi ok solo in nuova scheda no non si visualizza così io recuperiamo un po di spazio allora vado secco proprio su tale avevo già cercato ma c'è un sitarello oh che bello hanno fatto anche il sitarello sitarello ufficiale con schieffordelfi di nuovo la linea si interrompe mannaccia io non ho nulla di aperto non ho nulla che sta occupando banda quindi forse so che Twitch ha qualche problema almeno la settimana scorsa quindi so che aveva qualche problemino quindi spero di però anche sul bitrate non dovrebbe esserci grossi problemi niente magari faccio così provo a fare una cosina a chiudere provo a chiudere un po di cose così vedo se per caso mi dà ancora fastidio tanto non chiudo la dashboard di controllo che tra l'altro potrei usare anche sul cellulare quindi non vorrei che fosse quella in realtà ho disabilitato il lettore che mi fa vedere gli attivi il tuo canale direttamente dal telefono ecco vediamo se non mi sballa la live forse potrei fare qualcosa qui ma ora vediamo uso il telefono così tanto non dovrei aver bisogno vedere faccione con le mani nei cappelli ah pensavo il mio perché il mio faccione quello con la batteria scarica si è Twitch quando non riceve più adesso vediamo se spegnendo il spegnendo tutto funziona funziona regolarmente ci sono altri problemi gestore streaming questo tengo questo qui e poi vediamo vediamo che combina ok speriamo che non si interrompa più questo è il sito ufficiale dove c'è un learn more e si può imparare vabbè al momento non è che ci sia scritto più di tanto c'è scritto il progetto è stato sono i due i due personaggi che ci hanno lavorato Barbossa i fratelli Barbossa che mi ricordano un po i pirati dei caraibi e quindi mi ci fanno pensare troppo e con più di 15 anni di esperienza libreria fatta dallo sviluppatore per lo sviluppatore ok andiamo al sodo il logo alla fine è bello quello che hanno un po progettato diciamo che tutto parte da download dei test version io l'ho già scaricata l'ho già installata perché c'è anche un setup abbastanza abbastanza comodo questo login non è non è male dai tutto sommato questa ultima versione è di otto giorni fa quindi sono già state fatte forse un po di un po di fix qui c'è qualcosina c'è anche un video con un po di ma qui posso scegliere che video ah no solo l'espansione niente di dicevo c'è un exe con un setup che si può usare per installarsi l'applicazione a parte ed è comunque fatto abbastanza bene ti fa scegliere la versione di Delphi la suggeriscono cioè si può installare anche a mano volendo però ho visto che io l'ho scaricato da github con il classico programmino se avete il client di github o un qualsiasi client git potete scaricarvi il sorgente oppure scaricarlo qui in formato zip con il tag abbiamo già la versione 3.1.0 però il setup dovrebbe almeno da quello che ho letto in giro fare qualcosa in più cioè vi preinstalla già la libreria poi andiamo anche verificare queste cose perché essendo cross platform ci sono percorsi da aggiungere per le varie piattaforme c'è roba già compilata quindi dovrebbe già installarsi nell'ide con variabili d'ambiente tutta una serie di cose che ve la rendono praticamente pronta all'uso e tra l'altro il setup c'è uno screenshot nella home page dove vado adesso così vediamo il come bianco questo mi sta illuminando qui c'è un video piccolino con alcune delle feature ah no va proprio sul video su youtube però hanno anche un canale dove fanno vedere come installare il setup come fare tutte le varie le varie cose qui c'è un po' di demo con un po' di controlli un po' di animazioni quello che poi in realtà io ho visto e che mi ha un po' intrigato per capire le varie label le varie stili di testo poi ho visto che ci sono vabbè right to left abbastanza abbastanza scontato ho visto anche ok il disegno con i vari gradienti qui si fa proprio un demo di tutte le varie funzionalità l'elaborazione delle immagini e quant'altro questa è la deformazione con lo schip prospettica non mi ricordo come si chiama un po' di 3d ovviamente questa è una parte che sarebbe sarebbe bello approfondire anche usare il tridimensionale è una cosa che a me oh le particle le particelle vabbè però non voglio vederlo tutto così i confetti confetti json quindi ci sono un po' di il demo è fatto abbastanza bene quindi comunque abbastanza curato nella scelta dei vari effetti fa vedere un po' tutto fuoco, fiamme, particelle, animazioni ingredienti animazione shader una delle cose che a me piacerebbe veramente leggere trovare documentazione un po' di materiale è l'uso del 3d però non nel senso di come dire doom che gira cioè in prima persona è il 3d usato per ricavare su uno spazio bidimensionale dare un minimo di profondità per non so ruotare le carte oppure mettere una carta davanti all'altra cioè è come se lo schermo avesse una una profondità dietro quindi ho l'effetto vignetta quindi ci sono anche un sacco di effetti speciali animazioni su tutte le versioni cool quindi non si vede molto bene ma non si vedrà bene penso neanche dalla live quindi qua ho filmato dove vi fa vedere un pochino le cose che in realtà poi sono ecco un'altra cosa che mi intrigava era questa creazione pdf che mi ha lasciato un attimo perché siccome in in delfi non che manchino le soluzioni assolutamente ma ci sono poi esistono anche componenti installazioni stanno già facendo un pochino di come dire un po' di di promozione questo è troppo luminoso per la live non c'era il la possibilità di scurirlo secondo me sì però non mi ricordo dov'è l'opzione che fa github scuro comunque c'è il filmato quindi qui c'è l'introduzione par che sia compatibile da x7 in poi c'è un x7 in più quindi non è proprio una versione vecchissima ma però è già comunque una buona compatibilità anche perché presumo che indietro sia molto più difficile in quanto con i metodi anonimi generics magari ci sono più difficoltà a supportare certi certi tipi di strutture che poi vengono usate dalla libreria per fare le varie cose quindi dentro cosa c'abbiamo abbiamo geometria immagini alta qualità performance rendering qui c'è l'elenco dei prodotti quindi chrome chrome os android flutter xamarin firefox firefox os tutte le feature mi interessava appunto questo pdf output perché in def abbiamo dei componenti per i pdf ma sono tutti commerciali e ci manca un po' qualcosina di open source però non so se quello è proprio solo una questione grafica di elementi o se riesce a fare magari anche un documento qualcosa di un po' più strutturato senza poi c'è questo formato lotti che è il webp che sta diventando un po' lo standard di fatto anche sul web perché è compresso ma è leggero e quindi come usare la libreria quindi c'è questo comodo setup tra l'altro è tutto scuro tutto con supporto dei temi secondo me lo hanno integrato in inno setup o qualcosa del genere quindi per installarlo si può lanciare scaricare setup da github oppure c'è anche l'installazione da getit quindi il package manager di delphi che vi installa il software all'interno di varie librerie sorgenti già compilati per le varie piattaforme poi c'è anche questo il package manager cioccolati che è una sorta di getit per windows cioè un software per scaricare come package dei software per windows già configurati con varie parametrizzazioni io lo usavo poi dopo in realtà l'ho dismesso perché come dire preferisco passare o dallo store in quanto su alcuni software o dai comandi giusti e il setup supporta le configurazioni giuste altrimenti non riuscivo a customizzarlo e quindi non non l'ho usato tranne per qualche specifica esigenza quindi l'installazione manuale è possibile ma non è così raccomandata nella distribuzione qui dice ci si trova già i binari e il source ma si possono ricompilare a livello di target linux quindi abbiamo anche questo come target non abbiamo solo windows mac android ios c'è anche linux a livello visuale per cui sarebbe interessante testarlo anche lì sopra c'è già una compilazione ottimizzata per un paio di sistemi come debian ubuntu e sent os però se c'è bisogno di un'altra distribuzione per altri sistemi è necessario fare un rebuild facendo dei replace qui ci sono tutte le varie istruzioni just after install skier for delfi right click in your application and click enable skier questa cosa onestamente non l'ho in un certo senso compresa ovvero mi piacerebbe approfondirla però intanto lancio delfi così vediamo dopo l'installazione se ci troviamo all'interno qualcosa di particolare abbiamo i componenti non l'ho ben capito approfondirò un attimo come mai sul sull'eseguibile necessario pigiare enable skier cioè altrimenti non funziona cioè non ho capito questa cosa ma adesso l'andiamo l'andiamo un attimo a verificare mi faccio un'applicazione nuova quindi mi viene creato il solito form pronto all'uso quindi quindi che andiamo a fare facciamo una cartella skia test ormai questa è la e facciamo un 0.1 primer skia primer facciamo un skia primer main pass e poi lo chiamiamo skia primer progetto che stiamo a fare che stiamo a fare allora che cosa lo usiamo a fare quindi tasto destro lui dice enable skia non so bene questo tasto dove ci porta in un certo senso perché allora io so perché l'ho visto in qualche demo adesso faccio un disable e poi presumo che vado ad inserire informazioni all'interno della come dire del di un manifesto qualcosa del genere forse c'è questo il probabilmente qualcosa che riguarda la distribuzione perché se io lascio disabled lo lascio disabled allora intanto ci sono dei componenti mi vengono installati anche dei componentini ho la mia testa davanti quindi adesso la sposto ho gli evidenzio con ecco più grande di così direi che prendo prendo le icone immagino le icone e vedo che c'è ci sono un po' di controlli immagine animata paintbox la label la paintbox l'SWG quindi c'è anche un motore anche l'SWG è una nuova alternativa rispetto ai motori già disponibili ad esempio nei nei componenti di terze parti librerie come la icon image list quelle sviluppate da ETA che ha fatto quelle image list grandissime con dentro le icone vettoriali che vengono renderizzate per ogni soluzione quindi se io vado ad esempio a mettere giù una label lui mi appoggia questo SK label non riesco a ridimensionarla quindi forse vabbè un autosize c'hai ragione quindi se voglio probabilmente cambiarla dovrò dovrò cambiare qualcosina a riguardo iniziamo faccio un po' di pocci poi vediamo allora il testo qui c'è una caption abcdf si può cambiare la caption ma suppongo che da qualche parte ci sia anche qualcosa legato alla customizzazione come ad esempio questo text settings text setting decoration quindi qui c'è un po' di customizzazione per l'aspetto grafico il colore con una parte di animazione interessante perché noi qui io ho fatto un'applicazione VCL non fermo occhi quindi mi piacerebbe capire questa color animation a meno che non sia sbagliato ma non penso di essermi sbagliato vediamo no direi che è un'applicazione VCL ci mancherebbe e quindi se vado a creare una color animation ah ok quindi non funziona devo essere ci prova ma non ci riesce perché devo essere in Firemonkey ok no perché se avevamo le animazioni anche in VCL scoprivo come dire scoprivo l'America underline overline decoration qui non mi sembra che cambi più di tanto ci sono queste word ah c'è una word collection quindi si possono aggiungere altre parole quindi altre word adesso metto il mio nome così ah si affianca a quello poi probabilmente si potrà ok qui ci sono i colori quindi ok adesso riesco a colorarlo riesco a farci qualcosa quindi slant stretch qui ci sono le varie versioni del ultra bold quindi qui si può andare a cambiare un po' gli stili della della label le famiglie di caratteri la dimensione quindi in realtà nella label possiamo mettere più cose uno sotto l'altro e andare ad abilitare degli stili qui sono le decorazioni immagino però non mi sembra che forse alcune di queste sono attive solamente nell'ambito della di file monkey infatti mi parebbe strano avere questa cosa a livello di vcl però interessante che ci sia ecco devo capire un attimo se faccio run e lancio questa applicazione senza fare un enabled enabled schia ma io la vedo la vedo formatata quindi quelle enable dovrei capire un attimo cosa viene cosa viene attivato da questo punto di vista nel nel manifesto o qualcosa del genere non lo so qui dovremmo un attimo investigare dobbiamo fare un po' di ricerche quindi poi c'è il fatto che è di poter sostituire il motore grafico di schia a quello di firemonkey questo lo proverò dopo basic usage draw shapes quindi qui ci saranno ci sono un po' di esempi la prova del ah qui c'è l'esempio del pdf che parte però da un svg quindi in realtà sta esportando sta facendo un pdf partendo da un documento di un altro tipo ci sono vari codec quindi vabbè c'è un po' di tutto integration with delphi è possibile editare un bitmap col canvas ah vedi non ci sono diciamo che non abbiamo in ad esempio la gif in la vcl non ce l'abbiamo quindi alcune cose le abbiamo effettivamente sul sul canvas di firemonkey una cosa che volevo provare è proprio questa qui abilitare l'engine di di schia in un'applicazione firemonkey già esistente perché io una l'ho fatta un po' di tempo fa il famoso gioco del tiro ai dadi del porcello che abbiamo fatto tempo addietro in una live precedente che tra l'altro non so neanche se dove c'era questo bello e simpatico giochino molto pittoresco diciamo un po' un po' forse un pochino un po' frichettone come con il lancio dei dadi ecco qui c'è ad esempio un difetto che si vedeva la coppa del vincitore anche se nascosta c'è un effetto glow che la rivela anche se l'oggetto non è visibile probabilmente questo è un bug di firemonkey perché se poi si inizia a giocare nei momenti in cui cambiano gli effetti tipo io qui ho fatto ho fatto 15 passo all'altro ecco adesso non si vede più l'effetto ma sì comunque sono immagini sono dei png che effettivamente non sono proprio bellissimi perché se andiamo a analizzarli nel dettaglio sono molto pixelati cioè firemonkey è un po' è un po' forse approssimativa in questo tipo di la qualità poi si può regolare e chiaramente a discapito di una qualità maggiore c'è una lentezza dell'applicazione quindi lì però il motore come dire farà un po' quello che può quindi questa tira i dadi tira altri dadi passa a lui ecco la coppa in questo caso non compare più bene lui si è giocato tutto il monte premi eccetera eccetera vorrei vedere se è possibile abilitare quindi uscire uscire e abilitare schia for delphi se ci sono delle differenze qui c'è il fondale famoso avevamo diviso tutto in frame avevamo fatto un po' di questo tipo di di operazioni quindi come si fa allora una volta che questa feature è abilitata tutti i controlli verranno disegnati utilizzando schia for delphi in automatico con questo è possibile migliorare la qualità e le performance dei disegni della libreria così come l'intera libreria quindi sia del framework sia di quello che viene prodotto con la libreria quindi apriamo il source della delphi application project quindi il file dpr ovvero vado in view source mi posiziono qui e cosa dobbiamo fare includere la unit schia fmx dopo la unit fmx forms quindi ok quindi la mettiamo qui sono andato a mettere non so se si vede il source ma adesso lo ingrandisco quanto basta ho aggiunto la unit come richiesto e impostare la variabile globale global use schia si chiama così a true come nell'esempio qui sotto quindi prima di application initialize quindi mettiamo global use schia true tutto qui deve essere attenzione le note deve essere dopo fmx forms l'ho messa deve mettere implementation sperimentale ma può essere utilizzata includendo fmx types unit after ok si può combinare l'uso di di metal che se non ricordo male la libreria grafica dei sistemi apple con con schia global use schia non ha effetto su linux ok quindi teoricamente dovrebbe essere sufficiente devo aggiungere anche enable schia qui in qualche parte non lo so intanto mettiamolo facciamo un build e poi provo a rilanciare la stessa applicazione di prima vediamo se ci sono cambiamenti magari in live beh effettivamente almeno questo il disegno in sé è un pochino più è meno sgranato non lo vedo così velocissimo ma questo è anche dovuto al fatto che al momento ho la scheda grafica che è utilizzata abbastanza anche da come dire da da OBS per lo streaming quindi potrebbe anche essere quello che non prova a giocare i dadi beh il bug rimane lo stesso però effettivamente pensandoci bene è anche giusto perché è FireMonkey che probabilmente chiede di disegnare quell'elemento pur non essendo visibile quindi in questo caso anche utilizzando un'altra libreria è come dire l'elemento viene disegnato perché FireMonkey dice disegna quell'elemento quindi ci sta che però mi sembra già un pochino migliorato dal punto di vista grafico quindi soprattutto nella parte centrale se proviamo a zoomare un pochino dovremmo avere anche la versione di prima a disposizione e poi io sto sgranando con qualcosa che come dire è un sgrano un bitmap quindi sto zoomando con qualcosa che non è proprio affidabilissimo dovremmo catturare l'immagine e vederla però a tutti gli effetti ci sono dei bordi che sono risultano sfumati un pochino meglio quello bisogna dargliene atto almeno io qui la differenza la vedo probabilmente in live non si vede ma quindi interessante comunque questo fatto di poter fare questo switch praticamente con due righe di codice senza come dire senza colpo ferire ma questa è molto più è molto ben fatta io prima l'ho zoomato proprio perché già vedevo i difetti mentre in questo caso sono molto più attenuati per così dire e probabilmente se andassi a ingrandirlo di più o a ridimensionarlo li vedrei questo non è molto bello questo rimane cioè rimane proprio ben disegnata non ha quelle sgranature che aveva nel nel caso di prima quindi qui c'è un po' il giochino mi diverto un po' giusto per vabbè e viva ha vinto c'è la coppa abbiamo la coppa abbiamo la vittoria del anche questa coppa come dire ha un senza sgranare comunque si vede si vede bene è sfumata bene integrata bene nello sfondo quindi secondo me è un buon risultato mentre senza questo c'è un po' di differenza c'è un po' di qualità inferiore a tutti gli effetti questo si è un po' più grezzo e questo si vede proprio che è più bruttarello già dal principio è già meno disegnato meno bene compresi i bordi del del testo e del parliamo chiaramente di finezza senza ovviamente andare però qui si vede già che è un po' più sgranato un po' più brutto ok questo lo abbiamo dovrebbe catturare due schermate e poi dare un'occhiata alle differenze confrontando le due immagini e mettendole ovviamente sovrapposte però era giusto per provare questo questo ci sta quindi altre cose qui c'è un demo effettivamente loro ovviamente questo test l'hanno già fatto e in questo caso comunque si nota abbastanza bene la differenza di qualità come dire tra le due tra i due rendering grafici una cosa che si potrebbe fare per vedere un po' le potenzialità è quello che può fare e anche vedere un po' di codice è andarsi aprire il demo che dovrebbe aver installato forse qui sì perché mi ricordo che aveva sono dei benchmark che ci sono c'è un sample ci sono qui c'è una cartella dove viene installato tutto ah dal proposito volevo vedere intanto se ha installato i package correttamente qui se andiamo a scorrere li troviamo esatto qui faremo anche i package vcl design time package vcl package ci sono i componenti beh questi probabilmente li troviamo qui con ah qui c'è un componente in più per fare mochi per lo stile probabilmente quindi ci andiamo a vedere i componenti li troviamo design time package sarà per il wizard o per tra l'altro è giusto in realtà c'è modo di sapere cosa fa quell'enable perché noi abbiamo il sorgente e quindi possiamo andarlo a vedere andiamo nel source troviamo il vcl design time il project menu e vediamo cosa fa quando viene cliccato questo direi che dovrebbe essere lui dovrebbe essere il codice di quel enable schia per per delfi va interessante va a fare un po' di cose vediamo se esatto vedi che c'è un enable schia disable schia se non si vede bene però che vengono usati come menu caption all'interno degli helper delle estensioni poi se può interessare magari una puntata sul come estendere l'ide avevo fatto una presentazione in una conferenza che per qualcuno è rimasta memorabile perché avevo creato un plugin in realtà avevo preso spunto da un altro progetto esistente che emette dei peti quando compilate c'è un errore di compilazione quindi però interessante perché si riusciva un po' a vedere come scrivere un'estensione per per delfi e quali tipi di estensioni esistono e si possono andare a creare come ad esempio questo menu che viene appioppato al set skia enabled che diavolo va a fare va a vedere le piattaforme supportate dal progetto lo imposta come modificato ok skia defined set deploy files ok ok probabilmente questo set deploy files ho capito cioè noi lo eseguiamo non vediamo niente di particolare però quello che fa è probabilmente andare a aggiungere andare a cambiare il progetto dei setting del progetto per includere qualcosa nel runtime o ad esempio le importazioni magari dell'api o qualcosa del genere quindi è un qualcosa che gira dietro le quinte per far sì che nel momento in cui noi decidiamo di sviluppare un progetto oddio scusate c'è il gatto che si sta ribaltando sul divano prima o poi farò la seconda cam che si può invocare magari con i punti del canale per vedere lo stato del gatto mentre io faccio le live al momento è abbastanza indecorosa appena mangiato è pieno e quindi piacerebbe farvelo vedere ma non voglio non voglio come dire di danneggiare la camera e non so se si riesce a vedere ma perché c'è l'effetto no non si dice non si dice non si dice perché c'è l'effetto che scontorna e quindi niente rimetto tutto come prima però questa dell'idea la camera sul gatto è potrebbe essere interessante da da predisporre quindi giusto per effettivamente non non si riesce con comodo fai con comodo dicevo va probabilmente impostare dei file vedo qui un set deploy files probabilmente va aggiungere nelle informazioni di deploy delle librerie o degli elementi aggiuntivi infatti se io vado a richiamare il programma di prima questo qui questo schia primer che ha come dire schia abilitato se andiamo a vedere nel deployment forse ci troviamo esatto ci troviamo questa roba qui cioè il la dll da distribuire col programma è probabile che se io vado a dire disable schia questa roba scompaia e infatti è scomparso quindi abbiamo mi ero scordato che avevamo il sorgente quindi qualunque cosa si voglia sapere si può andare a sapere quindi questo enable schia di fatto ci abilita il delle cose nel deploy al momento poi forse ci sono anche altre impostazioni che vengono fatte set deploy files ops quindi viene fatto questo sicuro poi rimuove dei file da vecchie versioni cambia le opzioni mette le opzioni come modificate al momento agisce praticamente al momento solo su questi deploy file prendendoli dalla piattaforma quindi praticamente in base alla piattaforma va a impostare i file di deploy quindi suppongo che se io qui cambio non posso cambiare perché ho fatto un'applicazione vcl quindi la vcl è solo è solo windows quindi vedo solo ovviamente le librerie di windows faccio enabled e mi aggiunge la dll comunque è comoda questa cosa perché altrimenti l'alternativa sarebbe stata seguire le istruzioni per ogni piattaforma in modo da come dire quando dobbiamo fare il deploy andare a vedere i file che servono e andare a inserire questa riga tra l'altro noto che qui hanno usato una cosa abbastanza comoda c'è una una voce una macro schia dir quindi che sarà probabilmente la cartella che guardavo prima quella con tutti i sorgenti che purtroppo ho chiuso quindi qui in documenti c'è questa schia for delphi infatti c'è un binary win32 release e ci sono ah ok c'è già la dll l'importazione e poi c'è qui la questo build txt che è probabilmente l'esportazione del compilato con visual studio quindi questa va ovviamente distribuita qui c'è proprio tutto quindi molto comodo molto comodo questo comando tra l'altro è interessante perché con quello si potrebbe far venire un'idea interessante ovvero in altri ambiti dove magari c'è la necessità di cambiare in un certo modo delle opzioni di progetto si può sfruttare la creazione di un wizard simile per fare questo genere di cosa e non è una soluzione malvagia a tutti gli effetti quindi immagino che comunque io facendo un build funzionava non ho messo la compilazione con i runtime package quindi l'aggancio ai package vuol dire che lui compila tutti i sorgenti pertanto mi aspetto che se vado nelle opzioni dell'idea e cerco il library path library path in windows 32 ad esempio trovo già tutte le cartelle impostate ed effettivamente così infatti è comodo questa è tutta roba che vi fa il setup quindi come dire meglio direi che vedendo queste cose mi viene da dire meglio partire dal setup a questo punto perché mette giù tutti i percorsi per le varie piattaforme di FireMonkey e soprattutto legati anche alla versione o alle versioni di Delphi che avete installato io qui ho solo l'ultima perché comunque tengo aggiornati i progetti ma quindi se invece scegliessi Android anche lì mi troverai già esatto le librerie diciamo della piattaforma quindi quelli già classiche più la parte di Schia quindi il setup ha già configurato tutto molto comodo da questo punto di vista perché questa roba è tutta da fare a mano quindi diventa un quindi se si vuole fare il deploy enable Schia però non è necessario quello che volevo capire io era se era necessario o meno per eseguire l'applicazione ma direi di no perché magari la DLL è nel path quindi viene distribuita con l'applicazione è necessaria per includere nel deploy delle file aggiuntivi in modo che quando fate il deploy l'applicazione riesca a collegarsi a interfacciarsi alla DLL di Schia che ovviamente è una DLL esterna ok volevo provare a vedere immagino che il demo che abbiamo visto su youtube sia faccia parte come dire di qualcosa che trovo qui c'è un demo vcl fremonkey vcl fremonkey abibo andiamo su fremonkey che sicuramente c'è più c'è più ciccia qui c'è un source qui ci sono i sorgenti qui ci sono dei progetti prendiamo quello per Alexandria che è la nostra versione di Delphi e via e lo apro quindi non hanno fatto diversi demo hanno fatto il mega demo il mega demo con dentro tutto beh forse non è una cattiva idea qui c'è veramente di tutto e di più quindi se uno se lo vuole provare immagino che qui ci sia enable schia senza riabilitare vediamo intanto se compila compilato ci sono diversi file ma compilato alla velocità della luce che è una delle cose effettivamente che l'altro giorno c'era sul su discord di ah tra l'altro quindi una cosa da adesso faccio faccio così dunque dove lo posso andare a recuperare beh direi direttamente da discord volevo incollare per chi ancora non è non è iscritto il link al server discord intanto ne approfitto un attimo per chi non lo conosce magari spiego cos'è è un po' l'evoluzione dei gruppi di discussione aggiornati oppure chi ha usato slack troverà una cosa molto simile è un'applicazione che si scarica per collegarsi in un server dove ci sono diverse stanze quindi modalità streamer attivata ti assicuro amico ah bellissimo quindi mi censura delle cose che non non si dovrebbero vedere come fa a sapere che sto streamando è interessante quindi fare click per copiare un utente ok io qui ci sono i vari gruppi a cui sono iscritto tra cui c'è delfi club italia e qui ci sono tutte le discussioni quindi per chi è iscritto ci sono varie stanze generale vcl database e se avete non so delle cose di cui di cui parlare o delle domande o cose da chiedere in questo caso su delfi potete andare e collegarvi ok qui c'è il mio non l'avevo neanche visto tra l'altro queste ho spento le notifiche ma le devo riattivare perché ah bello c'è scritto anche che che sono in streaming quindi potrei tirare dentro abilitare la chat vocale quello che mi interessava fare in realtà era vedere se riesco a copiare il il link del server non ci riesco ma è impossibile dai cioè come fa non mi stai buggerando mi stai invita manda il link nascosto usa il pulsante di copia ok copia beh c'è un invito che scade fra sette giorni quindi lo posso tranquillamente incollare qui ok così per chi vuole può unirsi al server discord di thefi club italia e quindi qui sono io che spammo la live di questa sera ma è interessante che in streaming venga come dire riconosca la la cosa e quindi non lo lascio in background perché poi fa gli effetti sonori però quindi per chi vuole si può iscrivere a parte potrei anche silenziarlo ma intanto qui faccio quit e quindi sono curioso perché qualcuno se vuole sapere sono in live e così può vederlo anche su discord e quindi è interessante quindi andiamo a fare andiamo a lanciare sto demo che voglio vederlo in diretta perché io di youtube non mi fido e poi quando trovo qualcosa di interessante vado a vedere magari l'implementazione qui c'è un demo dei vari controlli ad esempio le immagini animate c'è rock jason oh che figata questa cosa qui diciamo che la cosa il valore aggiunto che trovo ha netto di un po' di qualità in più rispetto a quella a cui siamo abituati forse in farm hockey che è un po' più grezzo come motore e anche il fatto che questa immagine c'è per spostarla ok c'è bisogno abbiamo le animazioni anche in farm hockey però in questo caso cosa succede che è anche un'immagine è animata quindi non riesco a in verticale non lo posso volevo allargarlo però di per sé l'immagine è animata c'è la codina che si muove quindi interessante come scelta vabbè le gif animate dovrebbero essere un qui c'è lo standard webp che invece rispetto all'ottico qui sgrana un po' di più quella di prima era un po' era un po' più come dire definita ma secondo me questo è vettoriale se non ho capito male questo formato lotti che adesso vado a vedere subito perché sono curioso di capire di che cosa si tratta ammetto la mia ignoranza totale di non averlo sentito prima di di questi ultimi periodi 600% più piccolo comparato al gif 10 volte più veloce nel distribuirlo certo ovviamente ok sto guardando qui cercando di capire secondo me è vettoriale perché vedo che questa cosa più io la ingrandisco e più la vedo la vedo ingrandita ma meno sgranata quindi discover animation lotti simple license quindi dovrebbe essere un formato magari in chat siete più esperti del sottoscritto motion made simple view showcase what is lotti ecco grazie io l'unico lotti che conosco è quello che giocava a golf nei cartoni animati faceva spaghetti e lanciava il ci sono dei player è un formato di animazione basato su json quindi sono piccoli file json che lavorano su qualsiasi device e possono essere scalati senza pixelation quindi senza quelle sgranate I can I use lotti e qui c'è una differenza nelle dimensioni png enorme gif beh gif dipende un po' dal tipo perché ce ne sono anche di quelli perché lotti perché cross platform resolution independent il file super piccolo animazioni di alta qualità eccetera eccetera storia di lotti addirittura 2010 io lo sento lo sento adesso quindi vabbè se nasce tra i designer io non sono un designer anche se c'è un po' di gusto nella grafica ce l'ho ma non sono un designer vero e proprio library lotti on windows nel 2018 è stata creata una libreria lotti on windows interessante quindi questo potrebbe essere un nuovo standard di fatto ma per avere un esempio cioè di come può essere fatto all'interno non code studio code web player design preview create ah ci vuole un editor non si riesce a vedere un'animazione free animation vediamo qualche animazione tipo questa stellina qui che si adesso quindi se io la vado a scaricare sperando che non mi faccia che non mi debba registrare per scaricare un file un file non lo so non mi ha scaricato nulla al momento quindi sono io che non so cliccare oppure ok forse aspetta forse ci siamo download l'outjson dottor honni in ride con quattro utenti ciao benvenuti stiamo stiamo esplorando le potenzialità di schia in questo caso che è una libreria grafica mi fa registrare maledizione è una libreria grafica per fatta da google è usata in diversi suoi prodotti in realtà noi stiamo guardando il porting fatto per più che un porting un importing fatto per per delphi per usare questa libreria grafica le sue potenzialità nel fare applicazioni desktop e mobile e c'è questo interessante formato che io non conoscevo che si chiama lotti non site ma file type che sto cercando di lotti love non penso sia quello sto cercando di scaricare trovare un esempio ma mi chiede di registrarmi quindi quindi ce la salvo da qui non riesco non posso non riesco volevo proprio solo vedere come era fatto internamente pare si sia un file json che definisce le caratteristiche e gli step di una di un'animazione però non riesco a trovare lotti file type json a questo punto forse qualcosa lo trovo no niente da fare forse su wikipedia cosa stavate facendo di bello sul canale tanto vedo che si fa programmazione ma di quella a basso livello quindi proprio quella che io una volta ero in grado di fare ma io pulirei quello non li fa non è pericoloso soprattutto perché siamo su twitch e quindi quello non è lotti quello che giocava golf secondo me il gruppo per i fan di lotti sapendo sapendo un po' diciamo che magari non c'è molto da fidarsi come dire quindi vedo che anche qui non c'è niente da fare come mi ha portato qui ma sembrava neanche su wikipedia abbiamo qualcosa del asteroide nome svedese niente non riusciamo secondo me è un gruppo di fan di lotti ma è lotti che è un'altra cosa quindi non c'è da fidarsi anche perché sennò poi ci tocca ah vabbè che poi qui ci saranno questi esempi però scusa dimentico sempre che abbiamo il sorgente dei demo e quindi ci sarà qui il file object win32 release ah no qui ci sono i file compilati e quindi dove sarà qui in source probabilmente oppure faccio così cerco soft samples asterisco punto json spero che non sia roba che mi ha trovato il json del server del language server niente ma dovete riscarichi questi file allora andiamo qui quello che demo era il demo del qui c'è un viewer dell'immagine animata o qualcosa del genere penso fosse questo oh perfetto questo è però l'immagine della scelta ma il viewer penso sia questo qui ok forse ho trovato dove è che viene caricato quel file dai impossibile che forse nelle risorse risorse and images no dove cavolo lo vanno a caricare quel 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 diavolo di file che non lo so secondo me qui vanno sopra come documents vediamo ah c'è anche asset volendo asset asset samples forse l'ho trovato oh qui c'è qualche rocket jason l'ho trovato l'ho trovato beh 43k non è piccolo accidenti non è che si veda proprio bellissimo rocket animation si è scritto veramente è quasi però incomprensibile cioè se lo apro con viso studio code secondo me gli outline si diciamo che è praticamente la versione ok non mi fa vedere tutto no non voglio non rompere le scatole praticamente è come un svg tradotto in json con le animazioni in più quindi qualcosa del genere scritto in maniera totalmente condensata quindi ok ammetto l'ignoranza di non averlo mai sentito nominare però era giusto per capire era giusto per capire un attimo come era come era fatto questo file non è che qui c'è un loading forse questo è un pochino più più malleabile più piccolo lottifiles sì esattamente più o meno una cosa del genere però con degli identificatori talmente abbreviati che tiene un sacco di spazi in meno ok era giusto per capire per avere un'idea di questa cosa senza non voglio salvare niente grazie questo effetto sonoro mi devasta i timpani ok torniamo a noi quindi vediamo di nuovo che fa di bello questa libreria ecco i telegram sticker mi piacciono un sacco questa cosa mi intriga it's not a bug feature che roba questa è proprio da holy fans lo sticker di telegram è interessante le gif sono un po' un po' più rudi diciamo i vari loading sì ecco questi effettivamente hanno un po' di effetti devo dire che sono renderizzati molto molto bene poi soprattutto sul ma io non ho capito se posso ridimensionare anche ah sì allora lo posso anche mettere quadrato perfetto perché vedo che c'è un resize automatico e mi ingrandisce anche un po' il resto quindi volevo provare il rocket su uno schermo grande no sì è vettoriale si vede proprio che non sgrana proprio neanche un po' e con le stelline e c'è un effetto sotto bianco un alone che si muove ganzo molto bello label invece c'è una label con multiple style beh questo l'ho provato anch'io prima diversi formati di font con diverso peso ok controllare il numero massimo di righe cioè cosa vuol dire che più di tre righe non ci stanno quindi cosa vuol dire che se io riduco arriviamo a tre righe dopodiché metto i puntini ecco interessante questa cosa qui una bella feature dal punto di vista del soprattutto sul mobile dove c'è bisogno di come dire questo tipo di espedienti quando non ci stiamo ah si può fare una label cliccabile hai cliccato il testo ok questo nel demo che si vedeva non c'era si possono usare più famiglie ah ecco perché non c'era font name prima cercavo il font c'era scritto families perché probabilmente c'è un elenco di come dire famiglie di font da utilizzare ad esempio qui viene usato questo ma il roboto ce l'ho a parte che ce li ho quasi tutti quindi forse sono però in ordine inverso perché vedo che il roboto è quello che sta usando mentre questo ce l'ho queste tre non le ho mai quindi si può anche includere come risorsa il font nel programma e utilizzarlo quindi senza installarlo nel sistema cioè praticamente stiamo un pochino recuperando anche le feature del questo è il testo giustificato quindi se lo tiro dall'angolino è che la grafica arriva fino in fondo rimane giustificato ma proprio a livello di paragrafo stile macchina da scrivere cioè è perfettamente quadrato come se questo non si vede spesso sul sulla paintbox immagino che sarà come la paintbox normale quella di delfi cioè un riquadro vuoto dove sull'evento paint scegliamo noi cosa disegnare e a quel momento usiamo il canvas avanzato per vedere quello che possiamo disegnare se prendiamo freehand touch or click the screen move to draw ah bello touch anche col destro funziona dobbiamo metterci qualche pennellino però la cosa carina è molto come dire è netto il tratto ma non è così netto cioè ha una lieve sfumatura fatta molto bene nel c'ha un c'ha un po' di anti aglias è fatto benino è fatto con questa sfumatura non è male non è male ha un effetto molto preciso ma anche molto integrato molto sfumato come tipo di qui potrei passarci come dire la serata a vedere tutte queste cose altri demo freehand sweep gradient ok qui c'è il gradiente quindi diciamo niente di nuovo caricamento di file svg gorilla svg bello il gorillozzo quindi immagino che poi ridimensionando e allargando il logo di delfi con l'elmetto questo è vettoriale quindi viene riscalato direttamente adesso mi partirà la ventola è proprio bello preciso bello disegnato molto bene c'è anche dell'editing show original ah probabilmente hanno cambiato qualche hanno cambiato il colore diciamo dall'originale al rosso quindi custom color questo è l'originale il logo della tesla e con questo si può andare a variare il colore del svg oppure usarla come tile bello praticamente c'è la tappezzeria e l'immagine viene ripetuta però se ridimensiono quindi rimane uguale ma viene ripetuta però si vede sempre bene perché di suo è vettoriale questi erano poi i control ma ci sono i drawing basic quindi la base del del disegno le curve bezier quindi fatte proprio perfette molto molto nitide sul disegno diciamo che c'è molta cura le traslazioni rotazioni interessante etching quindi con le linee orizzontali questo può essere utile da mettere davanti magari una schermata per spegnerla e quindi il basic del testo multi style ok questo l'abbiamo visto nella label qui probabilmente c'è un paragraph to path quindi si può trasformare anche un paragrafo in un percorso e quindi salvarlo come svg o qualcosa del genere taper transform è quello che si vedeva prima nel nel demo quindi questo è come dire una frazione della è molto veloce ma è anche molto curato da questo oh Junkel benvenuto deve essere la prima volta che ti ospito si orcompila giusto perché usiamo le terminologie in realtà poi io più spesso uso le le tue mi viene spontaneo quando parto buonasera come dire come la va e queste cose qui troviamo per caso in un orario favorevole infatti poi dovrò ricordarmi se riesco di fare il ride alla siordana adesso faccio uno shout out mi sono dimenticato di farlo anche prima al gentilissimo ma è tutto maiuscolo e strano vediamo se se lo accetta che porta giochi giochi in live ma non solo perché io spesso lo seguo per le news news informatiche è è venuta altre volte e probabilmente non è scritto in chat quindi le news informatiche e poi soprattutto quando imperversa la signora luigia che è il fantasmino che imperversa le live molto irriverente ma anche molto divertente questo mese ha fatto ogni inizio mese c'è l'oroscopo quindi se vi volete divertire potete andare a ascoltare l'oroscopo questo mese mi è andato bene perché le probabilità le probabilità di che il cellulare mi cada nel nel vc dopo averla fatta grossa e mi sembra fosse a uno quindi questo mese l'oroscopo mi sorride faccio anche uno shout out che mi sono dimenticato in maniera molto grave a dottor onni soprattutto perché visto che porta programmazione si parla di software in game development quindi vuol dire che l'ho scritto bene che a volte basterebbe fare copia e incolla la dannata luigia è molto molto divertente poi è uno dei perché io ho poi fatto programmazione quando esco dal mio canale guardo solo cose di intrattenimento ogni tanto guardo anche qualcun altro che fa programmazione ma sul vostro canale mi diverto veramente un sacco perché comunque siete molto bravi creare situazioni poi anche su gaming sulle varie cose quindi sono uno dei canali che apprezzo di più quindi poi stasera so che c'è un ospite speciale quindi dopo se riesco se arrivo alle 9 farò il ride sul canale visto che un ospite così non c'è Daniele doesn't matter per chi non lo conosce è un famoso youtuber e più che altra mentre sarebbe sapere come ha fatto a fare quel gioco con unity quindi uno youtuber che però programma anche quindi diciamo i temi sono correlati sarebbe bello andare a vedere cioè poter entrare nel dettaglio a meno che non si sia fatto come dire appoggiare da qualcuno come come aiuto però perché io proprio unity si lo conosco ho visto un paio di cose ma non sono proprio capace quindi dei giochi in generale anche se mi piacerebbe quindi avrei delle idee interessanti un po' malsane ma ok tanto poi stasera qui non si sta facendo niente di particolarmente tecnico perché stiamo sperimentando degli smile della della signora luigia che che imperversano anche se il top sono ovviamente i disegni gli adesivi del del signor di uomo di altri tempi che li fa veramente bene gli adesivi della signora luigia che potremmo caricare in questo programma tra l'altro nel che supporta gli sticker di telegram e quindi se dovrò fare un demo eh lo so che ci sono le domande l'avevo già chiesto l'altra volta però si non giustamente erano impegnati nel fare il gioco quindi però si sono molto curioso di sapere un po la complessità anche della realizzazione di questa cosa qui se invece farò un demo usando adesivi telegram prenderò senz'altro uno sticker ah beh non sono animati però dovremmo dire di tentare anche la strada dell'animazione ok cosa stavamo guardando tutta questa immagini no è molto interessante comunque ero qui volevo vedere un altro paio di ok questa è sempre la stessa trasformazione gli stretched corners è veramente veloce comunque nel rendering poi qui c'è anche un po' di editing si demo con la luigia alla prima conferenza troverò il modo di 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 usarlo come esempio farò la foto poi ve la manderò sperando che si riescano a fare in presenza prima o poi la prossima tra l'altro è a bologna sarà a bologna il 18 di marzo perché c'è un incontro devops si chiama un evento che se tutto va bene forse ho anche qualche biglietto online da regalare quindi sfrutterò la prossima live per fare un po' di per mettere qualcosa in paglio se riesco e quindi tutto un po' in divenire questa è la cosa che mi interessa di più in assoluto cioè il 3d applicato a cose bidimensionali perché in più occasioni mi sarebbe tornato utile che poi non dovrebbe essere una cosa così complicata in realtà da fare mi sarebbe tornato utile sfruttare il 3d in certe applicazioni ma non per fare appunto doom ma per avere come uno schermo bidimensionale ma con un po' di spazio dietro e vedere più cose assieme un po' come su android quando si vedono i processi da chiudere che sono tutti organizzati come schedine si vedono come un mazzetto di perché praticamente nello stesso spazio si riescono a vedere più informazioni soprattutto se si fanno delle cose magari un pochino traslucide è interessante comunque questo tipo c'è la profondità che però non mi sembra forse bisognerebbe ruotarlo però questo è un effetto normale perché soprattutto nell'idea di fare ad esempio un gioco di carte potrebbe essere interessante la risposta però è di tutto rispetto quindi ma veramente ah questa profondità si è un po' strano come effetto però non è male questa questa libreria sto guardando un po' tutto quello che si riesce a fare creare un pdf da un svg ho cliccato ok ho cliccato mi ha aperto il lettore di pdf quindi l'ho creato al volo anche questo tutto vettoriale questa è la cosa che mi interessa di più sarebbe l'app di me con i dadi animati esatto sì quella era un'idea che mi era venuta però avremmo avremmo guardato quell'applicazione penso per non so per quanto quindi era l'xps non so se ho il lettore installato ok mi dice che l'ha creato però mi interessa già meno l'xps è un po' il tentativo di microsoft di fare un pdf ma senza riuscirci quindi non è proprio il path effect ok qui ci sono un po' di percorsi disegnati per poligoni riempiti anche quindi sono dei belli effetti quello non c'è che dire fanno un po' meno wow e quindi tra l'altro qui c'è una sfumatura cioè è fatto bene perché questo violetto ha una parte più scura una parte più chiara ah poi qui si può cambiare il si può decidere quanto stondare quindi così è proprio poligono così un cerchio la via di mezzo tra l'altro questo slider devo controllare che senza riuscirci per niente e quindi devo vedere se questo è uno dei controlli del liberio mi sembra quello sempre lo stesso path effect poi ci sono un po' di encoding la parte jpeg e webp che non è male come anche questo che secondo me diventerà il nuovo standard lo vedo sempre più utilizzato come standard webp questo non ho capito cos'è disegno un'immagine preservando i corner dallo stretch ovvero vuol dire che non stiri i bordi ah rimangono sempre ok cioè non è che si allunga anche la come dire la curvatura ma entro un certo limite segue l'immagine si allunga quindi cioè i bordi rimangono rotondati uguali altrimenti vedremo queste curve che si che si il ok il formato webp integrato in qualsiasi immagine ci sta questi li ho visti ci sono anche dei filtri luminosità vedo il contrasto questo si potrebbe ricollegare al giochino che ho fatto qualche live fa con filtri sui colori o deuteranopia prano protanopia tritanomali questo è il nome io non riesco a pronunciarlo ma se non ricordo male tra l'altro sono i nomi del del difetto nella visione dei colori di chi presenta delle forme di daltonismo e secondo me possono essere interessanti da chrome questo lomo ci sono dei filtri diversi beh il seppia ecco il seppia è molto migliore rispetto a quello che abbiamo integrato in delfi perché night vision quindi questo è l'originale questo è il luminance to alpha ah è bello c'è ci vede anche la parte trasparente quindi lsd se prendi delle droghe ok technicolor un po' strano però vintage carini questi effetti sembrano inutili lo sono per la maggior parte però ci possono essere dei frangenti ad esempio io ho l'effetto seppia nel gioco dei dadi l'ho usato per far sembrare un personaggio disabilitato comunque non non visibile nel l'effetto vignetta che dice quant'è la dimensione della vignetta e quanto è l'ammontare per questo è molto meglio dell'effetto che trovi in diversi programmi di grafica dove manca completamente o è fatto male invece questo è molto interessante drop shadow quindi l'ombra ovviamente quindi si regola la distanza quanto sfuma in un senso quanto sfuma nell'altro e quindi più ovviamente abbassiamo questi parametri più l'ombra diventa per così dire dura e nitida più la avviciniamo più diventa è questo se automatico effetti di luce proprio su tutta la scena quindi surface scale light constant questo si è già una cosa molto più particolare da questo punto di vista le particelle con interazione del mouse questo è bello a seconda di dove si trova il mouse vi disegna la scritta qui potrebbe andare a vedere anche un po' di codice per vedere come diavolo hanno fatto una cosa del genere parti con l'asset ah ok fa l'esplosione dei confetti fuochi d'artificio non sono molto visibili mouse track segue il mouse fa la caduta la caduta questo è tipo pam pulu pim pulu parim pam pum diventa orientation nel senso che si orienta sul mouse no semplicemente path spawn sprite frame bello ecco l'esplosione è già qualcosa che ha veramente un sacco di utilizzi il warp è bianco non si vede nulla ci vorrebbe uno sfondo scuro secondo me rate variabile non non si vede proprio emettitore sinusoidale è molto veloce è molto veloce comunque come mandrill pensavo fosse il mandrillo invece ah bello è spiderman questo è spiderman che compare nell'angolino chiaramente c'è un sacco da esplorare come come questi file json è perché il formato è sempre lo stesso oppure sarà un legato al fatto che mouse trail non mi sembra che faccia molto trail il testo questi sono ovviamente le cose più particolari che si riescono però comunque c'è un demo per ogni cosa quindi questo è quello magari più di impatto perché ha dei colori molto molto che variano molto sfumati quindi probabilmente in live non si vede ma sul sul mio schermo fanno veramente un bello questo per fare un sembra il raggio dei ghostbuster quindi adesso qui è partita la ventola mi sta occupando tutta la 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 con posizione del mouse quindi dove muovo fa l'effetto del bagliore molto molto supporto unicode beh supporto unicode direi che il minimo perché però sì in questo caso abbiamo anche le emoticon e il calcolo corretto della lunghezza del testo andando a guardare ad esempio questi particle che immagino però sarà la selezione sì quindi nel momento in cui si clicca qui poi boccio il si passerà a vedere particle asset viene creato un child form interessante anche poi l'architettura del hanno fatto una sorta di child form di finestra diciamo figlio con dove c'è un titolo e ci sono questi questi controlli quindi ce n'è uno il viewer sarà probabilmente quello con hanno usato l'SK svg per fare l'icona del tip mi interessava quello hanno fatto diversi viewer tipo quello dell'immagine mi interessava quello dove c'era il la barra questo dell'unicode questi sono i sample degli altri controlli dell'immagine dei documenti volevo vedere un po' di codice ma mi sa che va a creare tutto uno di questi viewer di base ci carica dentro delle informazioni per poter vedere ad esempio quella delle particle va a chiamare particle asset va a chiamare questa con varie informazioni render render come viene fatto vediamo ah beh questa è l'interfaccia scusa particle asset render particle samples e update fa una traduzione di queste x e queste y le aggiorna in base allo stato di un timer si direbbe no non stopwatch non un timer stopwatch è un cronometro che è incorporato in in delfi con system diagnostic qui ce n'è da vedere probabilmente non è molto organizzato per prendere spunto probabilmente da organizzato per rendersi comodi il fatto di come dire fare il demo in quanto tale quindi va a caricarsi queste informazioni bisognerebbe vedere cosa c'è scritto qui volevo capire allora torno un attimo sul suo sito perché è probabilmente che ci è tornato utile per andare a esplorare anche il sorgente così ce l'avevo già scaricato e vedere un pochino di codice di come ad esempio ad esempio basic usage come usage in inglese forse come disegnare delle figure c'è questo canvas quindi usa un'interfaccia ovviamente propria quindi non abbiamo a disposizione nel momento in cui decidiamo di disegnare con il canvas ovviamente se facciamo un'applicazione basata su skia l'ottimale sarebbe chiaramente utilizzare il suo il suo canvas con le sue funzioni in più quindi qui cosa viene fatto viene fatto questo paint create anti alias true quindi paint color imposta il colore crea un rettangolo vabbè questo in realtà fa parte del sono funzioni che fanno parte già di delfi e traccia il rettangolo sul canvas usando questo oggetto paint quindi questo t sk paint si direbbe essere l'oggetto che porta le proprietà con gli stili da utilizzare nel disegno della grafica e del resto poi c'è questo ovale che è un altro sk round rect quindi oltre ad esserci dei componenti dei controlli abbiamo anche delle classi e delle classi per le figure primitive io un'applicazione l'ho fatta un po' con tutte queste figure anche perché se non dobbiamo rispettare lo standard dell'interfaccia di un di un sistema operativo come tipo windows android volessimo disegnare non mi ricordo se era stato fatto per questa libreria ma credo di sì che avevano disegnato il pannello stile star trek quindi il classico pannello alla star trek dove sono solo etichette quindi dei riquadri con dentro un testo quindi sono tutte figure geometriche e un testo dentro e in un certo senso è sufficiente per andare a tracciare questo tipo di vedo questo learn more che mi porta qui nel tracciare le varie le varie figure ok sono le curve di bezier c'è questo path builder ah perché gli oggetti non sono poi pochi perché tra le figure da disegnare le le forme i poligoni il testo tutti gli effetti del testo i riempimenti le trasformazioni le immagini supporta le varie immagini pure quelle animate cioè le classi e le interfacce probabilmente non sono così come dire ci sono abbastanza numerose qui fa due rettangoli proprio secchi 00 200 e 100 quindi ne disegna come dire ah fa una traslazione e poi una rotazione disegna e poi ruota di nuovo quindi il in un certo senso come dire la la cosa di per sé cioè lui sta disegnando un rettangolo però siccome ha come dire trasformato e traslato il piano ha cambiato il sistema di riferimento quindi mettendolo sempre in 00 20 e 100 se io ruoto il piano sotto lo vado a stampare è come tenere fieme uno stampino e girare il piano interessante la parte del ok qui il testo quindi c'è sempre questo oggetto paint che quando viene creato pare che adeguere giudicare da qui si direbbe che lui passi diversi stili a seconda di quello che poi va disegnato perché l'ho visto creato in diverse occasioni ma o senza parametri per esempio qui non ha parametri qui c'è stroke quindi vuol dire che probabilmente è preconfigurato per il disegno di qualcosa che è un qualcosa di della penna quindi un tratto si quando abbiamo visto scusate avevo tralasciato la chat quando abbiamo visto il video del 20 ah si del 20 è vero che avevano fatto questo c'era questa slide si anche lì un po' di cinema ci sta perché bisogna guardare un po' anche al futuro come dicono qui ad esempio non l'ha creato con parametri qui neanche qui ha preso lo stroke guardavo se c'erano anche altri parametri la cosa che mi mi interessa particolarmente anche questo è molto è molto bello ecco custom font ah perfetto quindi tu puoi creare un font da utilizzare fai la create di questo tsk font e ci metti typeface quindi da dove arriva il font make from file quindi puoi creare un font una famiglia partendo da da un ttf quindi proprio true type font bellissimo e una volta che è stato creato hai il tuo font e a quel punto puoi usarlo per disegnare qui lui ne fa due uno regular uno extra bold e ci disegna quindi se anche non è installato un po' come avviene con i web fonts nel web cioè c'è il foglio di stile si può importare un font e assegnare un alias e quindi ovunque dopo venga usata quell'alias il browser va a scaricarsi il font e disegna il testo con quello quindi qui in realtà make from file sarebbe interessante vedere se è possibile ad esempio fare una cosa tipo make from resource o qualcosa del genere cioè invece che portarsi a spasso il file incorporarlo nell'eseguibile quindi nel programma e andarlo a caricare dinamicamente come byte e in realtà poi le risposte a queste domande perché qui ce ne sarebbe da da esaminare per per tre giorni sarebbe sufficiente andare nel source perché si va a vedere le pi quindi qua dentro immagino che ci sia un po' tutto tsk oppure in realtà potrei cercarlo anche perché faccio prima effettivamente siamo nel come si chiamava il tipo font face custom fonts typeface ecco perché non lo trovavo giustamente dunque c'è un search nel sorgente penso di sì si riesce a cercare qui search in this repository vediamo se me lo trova make from name ok quindi from name immagino che dovrà essere già installato make from file lo tirerà fuori cercavo di capire foundation ok make from stream ah perfetto c'è make from stream siamo a posto perché una risorsa incorporata nell'exe ad esempio la possiamo caricare con un resource stream cioè fare uno stream che legge i byte da una risorsa incorporata la passiamo a questo make from stream e a quel punto abbiamo praticamente possiamo fare l'embedding del form direttamente nell'eseguibile io non so se è una buona idea perché alcuni font sono veramente voluminosi però nell'ottica poi di distribuirlo cioè in qualche modo dobbiamo veramente avere anche il sorgente è interessante sia per come vedere anche come hanno implementato alcune cose ma anche per capire se queste funzionalità ci sono oppure oppure no mi mi piace questo questo make pdf perché vorrei capire veramente se come dire make pdf cioè genera un pdf capire quali sono le potenzialità di questo document perché make vorrebbe dire ok disegni e io ti converto però cosa ci può finire di dentro c'è il begin page questi sono i test quindi sorry è anche coperto da unit test quindi questa è una gran 5 code result non trovo però il sorgente dell'oggetto in sé scusami la unit qual è la unit è proprio schia appunto quindi è tutto all'interno del di questo file capire anche cosa si riesce a fare sk document begin page end page si diciamo che il suo vantaggio di per sé in questo make è fare il è riportare un disegno usando appunto questa api quindi c'è proprio l'importazione dell'api sarebbe interessante vedere quante quali cose si possono convertire per trasferire all'interno del pdf perché se posso disegnarci anche è vero che se posso convertire un svg con l'svg posso fare path test e tutto quindi c'è questo render bisognerebbe verificare se io posso renderizzare su questo canvas di questa pagina posso anche disegnarci cioè come qualsiasi se questo begin page mi dà un canvas come dire un sk canvas cioè proprio il canvas della libreria quindi è un po' da studiare un po' c'è un po' da approfondire però si non è un non è veramente una cosa piccola c'è veramente un sacco di di roba e c'è già la terza release quindi è interessante perché inizia ad essere c'è chi ha trovato dei difetti nel passare nell'usarlo come diciamo sostituto della del disegno della farmocchi noi almeno nel gioco che abbiamo aperto di quello che abbiamo visto difetti non ne ho notati quindi forse hanno o hanno corretto oppure parliamo di magari applicazioni più dettagliate c'è chi usano più controlli più liste però in realtà mi sembra abbastanza non mi stupirei tra l'altro se questa fosse un'applicazione FireMonkey questo progetto che ha schia abilitato ma nel source magari c'è pure sì c'è proprio anche schia attivo e quindi tutto quello che vediamo è disegnato con schia anche nei controlli tradizionali molto interessante comunque senza senza ombra di dubbio volevo vedere in giro questa transform le trasformazioni delle immagini come effetti ma non trovo la non trovo la questa roba di Seattle qui sarà qualche patch qualcosa che manca viewer option max value cioè secondo me qui hanno parametrizzato anche la modalità con cui vengono creati dentro la finestra del visualizzatore quelle barra che vedevamo scorrere perché secondo me se noi andiamo a prendere la parte di trasformazione che includeva la trasformazione sulle immagini tipo quel taper e vediamo nel codice i parametri secondo me lì c'è un workaround per un problema di per un bug di delphi interessante messo in una region interessante c'era quei parametri con cui si poteva deformare esatto l'immagine e secondo me lui li va a configurare in maniera dinamica ovvero mentre nel momento in cui clicchiamo esatto vedi aggiunge un enum cioè hanno fatto anche una piccola API per passare delle opzioni a quel viewer quella finestra di visualizzazione che aggiungendo ad esempio un float probabilmente mette la trackbar e mettendo invece un tipo numerativo mette la casella con la discesa poi va a creare quel viewer con la caption e quel viewer sarà impostato per cambiare i parametri quando cambia viene a chiamare questo callback che è passato qui in dote al questa show fa vedere il visualizzatore e gli passa un metodo dove gli dice la destinazione in cui tracciare il canvas e ogni volta che probabilmente questa procedura viene chiamata qui dentro si trova praticamente i parametri cioè la struttura con i valori cambiati in base al cambiamento della trackbar quindi quando cambiamo la trackbar cambiamo i valori richiamo questa procedura che di fatto va appunto a caricare qui fa make from encoded file va a tirare su la foto dei simpson e gli va a applicare la trasformazione usando i parametri che tira fuori dalle opzioni quindi ancora interessante questa l option viene fuori da qui bello comunque cioè viene passata questa struttura viene creata viene passato al viewer il viewer quando la cambia altera i valori e qui nel metodo vengono letti interessante anche il modo in cui hanno fatto questo demo c'è proprio come architettura di finestra plasmabile con le opzioni ma nel float cosa hanno usato per fare una trackbar volevo capire un attimo aggiunge un float aggiunge un trackfield si è la trackbar ah quindi la trackbar che compare con quell'aspetto moderno interessante non mi ricordavo che l'avessero ringaluzzita un po' come magari c'è anche un demo o qualcosa sotto ma comunque è veramente molto interessante non c'è niente da dire quindi magari si potrà fare qualche approfondimento ulteriore in una live successiva adesso cambio la videata così vi saluto anche perché sono praticamente le le nove e quindi come dire siamo siamo quasi in dirittura d'arrivo per cui anzi direi che ci siamo definitivamente vado vado un attimo nella mia da esperto sperando che non non cada tutto come prima così intanto possiamo farci saluti è molto interessante sicuramente l'approfondirò perché per alcuni per alcune particolarità può essere molto molto c'è molto da scrivere diciamo codice in questo caso a meno di non usare quei suoi controlli però per come fatto supponendo di avere una tavola bianca anche magari una cosa di firma o qualcosa tipo un gioco così dove chiaramente il rad viene un po' meno può essere interessante perché ha degli effetti si vede molto bene ha degli effetti molto molto fatti bene molto interessanti quindi sicuramente varrà la pena approfondirlo un po' e se trovo magari un caso di studio che può essere interessante da portare in live come progetto da realizzare che la sfrutti un po' come si deve o se avete dei suggerimenti come dire sono sempre ben accetti perché quello può essere chiaramente un così un pretesto per rivederla un po' nel dettaglio e capire un po' come si usano le varie le varie parti anche se pur non avendo al momento una documentazione esagerata con gli esempi di codice mettendosi lì è comunque abbastanza intuitiva da quello che ho visto quindi si è autoesplicativa ed è anche interessante un po' come è stata realizzata internamente il demo niente direi che con questo abbiamo finito per cui direi che ci daremo appuntamento intanto la prossima settimana con la prossima live vedremo un po' di cosa parlare magari vediamo qualche argomento che può essere interessante intanto rimanete collegati perché vado a fare un ride se la live è già iniziata al canale appunto della come la chiamiamo la signora Dana perché questo è il canale del signor Juncker della signora Dana ci si parla così ci si appella come signor e signora quindi il signor compila quindi si usa questo questo modo simpatico e quindi un po' l'ho copiato perché a volte lo usa anche fuori e gli fa sempre sorridere dove c'è ospite Daniele Doesn't Matter così potrò chiedergli potremmo chiedergli come diavolo ha fatto il gioco ha fatto un gioco stile horror con Unity fatto abbastanza bene perché non si appartono un po' le scene truculente che si vedono però è curioso sapere anche come con quali linguaggi e con diciamo in che modo l'ha fatto poi vabbè è una personalità già comunque su su YouTube scritto libri quindi per cui vado a fare un ride così mi tolgo questa curiosità e magari se ci sono altre cose da chiedere è così come dire conoscete anche il canale che io seguo tra tutte le domeniche perché mi piace guardare e giocare a Phasmophobia che è uno dei giochi ogni tanto ci provo anch'io ma ho paura quindi preferisco guardare gli altri se volete rilassarvi alla domenica sera si ride a caccia di fantasmi quindi tanto preparo il ride ringrazio come sempre di essere stati qui collegati per i suggerimenti per tra l'altro anche chi ha fatto chi ha fatto anche il ride con qualcuno magari più giovincelli forse lo conoscono quindi andiamo a sentire l'intervista e niente noi ci aggiorniamo la prossima settimana ci vediamo la prossima settimana se tutto va bene non ci sono imprevisti poi iscrivetevi al canale discord di delfi club italia e direi direi tutto e alla prossima quindi grazie ancora ciao a tutti buonanotte buona cena per chi deve ancora cenare e rimanete collegati così ci ci spostiamo direttamente sul canale e andiamo a salutare Dana e Daniele doesn't matter intanto grazie a tutti e alla prossima di nuovo ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti